Ciao a tutti, innanzitutto buona domenica. Sto facendo questo video perché vorrei un attimino rispondere a tutte quelle domande che mi state facendo che riguardano pandoro e panettone. Partiamo dal presupposto che fare pandoro e panettone non è come andare a fare una crostata, il pan di spagna o un tiramisù, ok? Giusto per intenderci. Fare il pandoro e il panettone significa dover affrontare il livello di difficoltà più elevato all'interno di una cucina. Con ciò non intendo dire che sia impossibile realizzare in casa. Intendo dire semplicemente che è molto difficile e che le piccole varianti che noi vogliamo apportare o ne capiamo e allora lo facciamo con una logica o altrimenti sono come giocare alla schedina superenalotto. Mi va bene o non mi va bene? Non lo so. Io gioco intanto, poi vedrò. Però non possiamo poi dare la colpa di la ricetta che è sbagliata, non l'hai seguita. Mi sa che forse qualcosa di sbagliato c'è. Numero uno, lo stampo. Lo stampo che io utilizzo è quello da un chilo. Perché? Perché è il minimo per poter riuscire ad ottenere un prodotto perfetto. Premetto, più è grande l'impasto, più è facile che otteniamo un prodotto buono. Noi facendolo in casa facciamo un pandoro, ok? Un panettone. Quindi non ne facciamo 28-29 dove l'errore viene comunque nascosto dalla massa grossa che stiamo andando a fare. Ma non soltanto questo. Andiamo a parlare adesso di quelle che sono, nello specifico, quelle che sono le vostre domande. Mi avete detto, secondo me c'è troppo burro. Secondo me c'è poco burro, perché mi sono arrivati i commenti di questo tipo. Oppure secondo me c'è troppo zucchero, oppure secondo me c'è poco zucchero. Mi è venuto un po' secco, un po' asciuttino, oppure mi è venuto troppo umido. Ok? Mi è venuto con il sapore un po' a lievito. Come mai? Allora, per quanto riguarda zucchero, parliamo dello zucchero. Io vi ho fatto due ricette, una con il lievito madre e l'altra con il lievito di birra. In quella con il lievito madre vi ho messo una dose più alta di zucchero di quella con il lievito di birra. E ho fatto l'inverso per quanto riguarda il discorso del burro. Quindi ho preso i due livelli, massimo e minimo, da poter andare a inserire per ottenere un prodotto che sia corretto. Voi dentro queste due ricette vedrete che c'è una diversità di peso fra burro e zucchero. Su quelle potete giocare o un po' di più o un po' di meno. Andare fuori da questi parametri significa stravolgere completamente la ricetta. Per quanto riguarda il discorso, una volta che l'abbiamo cotto mi è venuto troppo chiaro o mi è venuto troppo scuro? Allora, troppo chiaro o troppo scuro dipende dal nostro forno, ok? Dalla cottura che ne facciamo nel nostro forno. Se lo mettete sulla griglia tenderà a rimanere più chiaro, ok? Se lo mettete sulla placca tenderà a rimanere più scuro. Questo perché? Perché la placca trasmette il calore direttamente allo stampo e quindi va a cristallizzare lo zucchero. Lo zucchero quando si cristallizza tende a imbrunirsi. Ma non soltanto questo è il problema. Qua si parla anche di forza del nostro forno, quindi di potenza, di forza del nostro forno. Quindi io lì non posso intervenire. Queste sono cose che dovete fare voi, dovete valutare voi, dovete capire voi come comportarvi di conseguenza, da come si comporta il vostro forno. Parliamo invece dei tempi di lievitazione. Mi avete chiesto in tanti, mi dai i tempi esatti di lievitazione? Non posso. Non posso darti un tempo esatto di lievitazione perché tu non mi stai utilizzando una camera di lievitazione con una temperatura standard. Tu mi stai utilizzando un forno o un frigorifero, ok? Per quanto riguarda il passaggio nel frigorifero. Il forno, anche se metti la luce accesa, non ha sempre la stessa temperatura. Ma se anche avesse la stessa temperatura, non ha la stessa umidità il mio forno con il tuo forno. Una camera di lievitazione ha una temperatura e un'umidità che sono costanti, quindi lì si può andare a mettere un timer. Per quanto riguarda invece quelli che hanno un po' il sapore a lievito, dici l'ho fatto, buono però, c'è va un po' questo sapore a lievito. Allora, con il lievito madre è difficile che succeda, però può succedere. Con il lievito di birra può succedere più facilmente. Questo perché il lievito di birra è molto più incazzoso, molto più nervoso, cioè agisce molto più in fretta. Allora, in quel caso, che cosa succede? Dove posso intervenire io? Intervenire io? Non posso, perché? Perché anche lì dipende da come avete la condizione di umidità, di temperatura all'interno del vostro forno, all'interno di casa vostra, per andare a dirvi questo è il tempo esatto, corretto. Ok? Quindi anche questa è una cosa che voi dovete imparare a utilizzare gli occhi per capire come sono i livelli. Ok? Quindi questa è una cosa che quando la fate, sono delle ricette molto delicate, quindi quando le fate buttateci l'occhio, aggreditele, controllatelo ogni totto, aprite, guardate, fate di sfruttare, così almeno riuscite a portarvi in pari. Voi prendete adesso una confezione di zucchero a velo vanigliato, infilcateci il naso dentro, annusate, tanto non fa male. Sentite che cosa viene fuori? Viene fuori l'odore a pandoro. Come mai? Perché? Quindi è quello l'odore che dovrebbe avere il nostro pandoro. Ma allora, perché il nostro pandoro non ha questo odore? Semplicemente perché noi non abbiamo messo questo zucchero a velo vanigliato sopra il pandoro e non l'abbiamo fatto glassare e noi abbiamo permesso di entrare dentro. Come facciamo per farlo entrare bene dentro? Gli spruzziamo l'alcol. L'alcol quando glielo spruzziamo lo fa assorbire alla parte esterna, non soltanto lo fa assorbire alla parte esterna, ma estrae gli aromi che ci sono all'interno, li va a legare insieme, rende la parte esterna morbida, soffice, spumosa e il nostro pandoro è perfetto. Mi avete segnalato ad alcuni, mentre cucitevate il pandoro, sbrem, vi è uscito fuori un po' di burro che vi è finito sulla teglia e vi ha fatto proprio una cappa di burro tutto quanto dentro il forno, bellissimo, immagino la scena, l'odore. No dai, lo so che è una tragedia, non è un dramma, è una tragedia, è proprio una cosa greca questa, è bruttissimo. Però la soluzione qual è? Quando fate le pieghe, fatele bene, fate uscire bene tutta quanta l'aria, ok? Io ve la faccio vedere veloce, ma non dovete farla veloce, io non lo faccio veloce, lo faccio lento, lo mando avanti veloce, ma va fatto piano, bisogna far uscire bene tutta quanta l'aria, perché se no vi facessi vedere un video così, insomma, le pieghe le fate bene, fate uscire bene l'aria, girate bene, pam pam, pam pam pam, e questo problema non ci sarà più, ok? Il bimbi per fare la ricetta del pandoro, del panettone, non va bene, perché il bimbi utilizza due lame che girano per impastare, ok? Noi invece abbiamo bisogno di un braccio che gira per impastare. Ora prima di salutarvi vorrei dirvi due cose importanti, la prima è questa, devo affrontare questa sfida, e quindi per farlo bisogna di stare un attimino con me, con me stesso, affrontare i miei demoni, combattere da solo, e non ce la faccio sinceramente a mettermi davanti alla telecamera, o a montare un video, o a registrarlo, o a prepararmi mentalmente, o a rispondere ai commenti, ai messaggi, eccetera, eccetera. Quindi ci sarà la Caterina che vi risponderà nel sito internet, lei è comunque una cuoca, quindi ne capisce bene di cucina, poi lei magari mi farà un report, mi mette insieme tutte le domande, e io appena sto un attimino tranquillo con la testa, gli rispondo, poi lei vi manderà le risposte, quindi saranno molto più lenti le risposte in questo periodo. E ovviamente la seconda cosa è che non caricherò video per una settimana, a parte mercoledì, che mercoledì invece caricherò un video, che è quello del Pandoro, con le gocce di cioccolato, diciamo che è un po' il video saluto, perché poi non so quanto tempo ci metterò a smettere di fumare, e a ritornare col mio normale status mentale, per poter affrontare telecamera, montaggio dei video, eccetera, eccetera, eccetera. Lo so che a volte è un po' difficile da comprendere, però fidatevi, è tutta una situazione particolare. Provate a pensare di essere in macchina, voi oggi guidate senza pensarci, vi mettete al volante, guidate e andate. Provate invece a pensare di mettervi al volante, e a dover fare tutto il ragionamento, di quello che state facendo, ogni singola cosa, e in più divertirvi. Vi rendete conto che è un pochino più complicato, metti la prima, metti la seconda, metti la terza, schiaccia la frizione, accelera, e poi attento al semaforo, attento perché passa il pedone, le strisce pedonali, eh, che cazzo vuoi, perché c'è quello lì che rompe, ma si supera così? Ecco, provate a pensare, queste sono le dinamiche in una macchina, provate a pensare a quelle in cucina, uguale, se uno guida e basta, guida, affronta tutto questo, non se ne accorge neanche, io cucino, affronta tutto questo, non me ne accorgo, però se faccio il video, ma sai quante cose uno poi dopo dice, no, cazzo dovevi dire questo, poi porca miseria, ti sei dimenticato, allora per questa settimana, quindi, eh, a parte mercoledì, il video del pandoro, pandoro, sì, un palettone, pandoro, con le gocce di cioccolato, poi dopo, sarò un po' assente, non lo so quando torno, però, non vi voglio, né, non voglio darla vinta, a quelli che mi fanno i commenti negativi, anche se mi hanno dato fastidio, perché se vi dico il contrario, vi dico una palla, ma poi sono fini a se stessi, non tutti piacciono a me, quindi non posso pensare, pretendere di piacere a tutti, ma soprattutto, non voglio, lasciare questi 12 milioni di visualizzazioni, che ho avuto, questi quasi 100 mila iscritti, fra il canale italiano, il canale spagnolo, pagina di facebook, twitter, e tutto sto bordello di cose, quindi ragazzi, fatemi tornare in me, fatemi recuperare un attimino, la mia stabilità, e ci vediamo presto, ciao!